Inter-Lazio, la semifinale di venerdì, giovedì invece Fiorentina-Napoli. Thomas, ascoltiamo poco, lavoriamo tanto e poi diamo queste risposte. Questo è un po' il concetto di Zaglio. Tiene i profili bassi, in tranquillità, dopo tutto quello che è successo, barmi, cavallo. Ci potrebbe dire anche un po'. Però a me è piaciuta la partita dell'Inter, ieri ha dato una bella risposta, anche perché le ultime due gare dell'Inter non mi avevano entusiasmato. Per il gioco espresso. Invece ieri devo dire che ho visto una buona Inter, subito dall'inizio, bella tonica fisica soprattutto su ogni pallone. Bene così. Abbiamo chiuso il giro nell'andato con 48 punti, con due punti in meno del Napoli stratosferico dell'anno scorso, che è chiuso a 50 punti. Adesso siamo ripartiti con la prima di campionato con una vittoria fondamentale. Poi oltretutto 51 punti, solo l'Inter di Mancini nell'anno post-calciopoli, che era un anno particolare perché non c'era la Juve, c'erano squadre penalizzate. Solo quella volta lì l'Inter, nella sua storia, fece meglio. Vi ricordo, Francesco, che giovedì, quando eravamo qui a commentare la Juve, qualcuno ti aveva detto mi sembra che la Juve sia più in forma dell'Inter in questo periodo. E tu non eri d'accordo. Avevi detto che secondo me l'Inter, al di là degli episodi arbitrali, però l'Inter è in condizione anche lei. Ieri la risposta effettivamente va nella tua direzione, perché 5-1 a Monza non è da tutti. Io avevo detto qua in diretta, qualcuno si era messo a ridere, ma non sicuramente tu, quando parlavo con, non mi ricordo chi era l'interista di turno all'epoca, però c'era qualcuno che comunque era... Fusato c'era forse. Forse Riccardo, che l'Inter aveva vinto con tre gol di scarto a Monza. Non so se l'ha detto Fusato... No, l'avevo detto io forse a lui. Ah, l'avevi detto a lui, ok, ok. Sì, ma qualcuno l'aveva presa come uno sfottò o un mettere le mani avanti. In realtà, secondo me è proprio figlia, e la prestazione di ieri, secondo me, lo è. No, tu l'hai detto perché sapevi che Cagliardini giocava a centrale, e avrebbe fatto queste cavolate. No, perché... E dall'altra parte c'era D'Ambrosio. Perché l'Inter... Valentin Carboni, Max Inter. Perché l'Inter, nelle partite con le squadre che provano a giocare bene, e che provano a essere offensive, se partono come ieri, fanno due gol nei primi 20 minuti, così è successo. Perché l'Autor Martínez in questo momento è un giocatore praticamente inarrestabile. Scusa, mi sono fermato un attimo perché c'era... Stava per fare un euro-goal di Ola. Un euro-goal a Cagliari. Ha provato a tirare a centrocampo, palla alta, ma non di molto. Bello, bello, veramente questo... Bravissimo. Bel piede, questo ragazzo qua. A cavole. E anche coraggio. Sì, e... Adesso, a parte gli sfottò, perché io poi già leggo delle robe che fanno abbastanza sorridere, perché poi va bene parlare di cose di campo, ma dopo andare sul fatto che Gagliardini ha fatto il mano volontariamente in area, che... Ah, lo spero per lui. Che D'Ambrosio è entrato in campo col figlio, ma non è la mano con la mano dell'Inter, ma lo sappiamo. Qualcuno ha ricordato il fallo di De Vrij sui Cardi, quando giocava nella Lazio l'ultima partita di campionato. Sono terribili, eh, Thomas. E quella, quella... Tutte le loro... No, sono ricordi che vengono in mente adesso. Allora, è chiaro che... Ah, che poi passò all'Inter la... Per fare la Champions, ti ricordi? Sì, sì, sì. No, è chiaro che... Quella, quella, quella non è come... Non c'entra niente con gli... Quella è diversa. No, ma sono ricordi che... Quella è una abbastanza particolare. Prima volta che gioca contro l'Inter... Esatto. Al decimo minuto, fallo di mano... Ragazzi, ma voi vi ricordate... Ma voi vi ricordate che dopo sei o sette scolette di fila alla Juve si parlava di Scansopoli? Sì. Tu dici che il Monza ieri si è scansato. Il Monza di Galliani scansa quando trova l'Inter. No, no, l'Inter è... L'Inter quando è in serata così e quando c'ha la Noglu gira così e quando l'autor fa quello che vuole la tutta la stagione è praticamente ingiocabile, ok? Tranne per Bologna, Sassuolo e Juventus che sono le uniche tre con cui non ha vinto. Ma c'è stato anche il gol annullato al Monza per un fuorigioco veramente di incendimere. Che assurdo. C'era una cosa incredibile. Non si può sallurare questi gol qua. Anche lì abbiamo visto tanti campi, uno, io ripeto, non se la devono prendere a male gli amici. Io adesso non parlo di Thomas perché negli anni scorsi non l'ho vissuto qua io. Però ragazzi, quando per anni si dà a una squadra che vince sette, otto, nove squadre di fila che fa due finali di Champions fa quattro double di fila con le Coppe Italia supercoppe italiane, eccetera, eccetera evidentemente non è solo per via di aiuti o che, anche perché la Cioppine era già passata. Sentir parlare per anni di Scansopoli di squadre che vanno a Torino a giocare giusto per prendere perché tanto i punti dovranno farli con le altre, eccetera, eccetera ieri, ripeto io, dalla parte opposta ho visto un Monza che mai così da quando c'è Palladino è andato in difficoltà. La peggior partita del Monza di Palladino senza dubbio. Sinceramente volevo fare una piccola nota su quella storia che abbiamo appena appena sfiorato prima il fatto che quattro squadre italiane vadano e interrompono il campionato a tutti gli effetti per andare a fare la Supercoppa Italiana è una cosa veramente che non ha senso. è una cosa che sta accadendo questa settimana con le Spagnole e a Barcellona Atletico e Usazuna ma è il principio che si chiama Supercoppa perché sono le due squadre che hanno vinto una Coppa importante Gianni, la fresca no, no, d'accordo certo, ma pensate che De Grado sta portando il grano infatti vorrei ricordare al quotidiano in rosa che non so bene il nome in questo momento che dice fuga Inter più 5 sulla Juve che la Juve non ha ancora giocato che dovrebbe anche scrivere in gigante che se la Juve dovesse vincere le prossime due l'Inter si troverebbe la Juve davanti con una partita in meno ma questo è un tema che abbiamo già visto c'è stato, se non erro, per tre volte di filo la Juventus ha giocato al venerdì sera e per tre volte di filo io leggevo sorpasso sorpasso gli altri devono ancora giocare no, ma sorpasso in attesa dell'altra era sempre diverso il titolo qua oggi adesso è fuga in attesa che giochi l'altra io oggi ho fatto leggere il titolo a una signora che non segue il calcio e ho detto signora, lei cosa capisce? bisognerebbe fare magari forse hanno capito che magari possa solo l'unica sconfitta che ha fatto la Juve sarà la seconda magari come fanno in l'NBA dove non esiste la giornata di campionato ma giocano praticamente tutti i giorni i partiti per cui la classifica non è i punti ma è la percentuale di vinte sulle partite giocante comunque io credo che tutto quanto per chi ha i capelli un po' bianchi come me forse anche come l'amico di fianco meno male che non sono lui togli forse ce li ha lui c'è anche il pizzetto bianco uno può avere i capelli bianchi a 30 anni si porta più avanti di me io credo che davvero questo gioco che ci appassiona da sempre perché è la prima cosa che fai quando sei un bambino prendi un pallone e ti metti a giocare però stanno veramente facendo di tutto per guastarlo per fare dei danni proprio ai fini del dio Danaro perché tu sei un tradizionalista no beh perché sei un tradizionalista rispondo a delle logiche la supercoppa italiana per me è come se non so la supercoppa europea è stato giocarla chi ha fatto la finale di Champions cosa c'entra la Lancia con la supercoppa italiana perché devo sentire chi vince facciamo un passo indietro cosa si fa la supercoppa a fare per assegnare un trofeo con una partita i trofei sono campionato Coppa Italia e Coppa Italia ma quello ci può essere ci può essere perché è sempre stato anche ad altissimi 23 milioni da dividere ma ha ragione la supercoppa c'è sempre stato mica tanto allora facciamo la superlega e gli amiamo ste robe quando è stata giocata la prima supercoppa io mi ricordo fino a quel momento non c'è mai stata fino ai anni 80 però c'era anni 80 c'era la famosa coppa intercontinentale dove erano due squadre sole non c'era il torneo dove la squadra che vinceva la Champions League Coppa dei campioni allora e la squadra la Libertadores era ad alto livello ma però non è che facevano la Champions League la faceva su chi vinceva il campionato no perdonami ma non è che facevano partecipare anche chi aveva fatto la finale solamente ed è arrivato il secondo di una o dell'altra e facevano un super torneo come invece hanno cominciato a fare lì che però è bello adesso adesso lo faranno fare allora io vi dico giovedì ero qui in regia e mentre guardavo la Coppa Italia guardavo anche la Supercoppa di Spagna e onestamente Real Madrid Atletico 5-3 è stato uno spettacolo ah ci credo e poi tu dici ma perché c'è l'Atletico che non c'entra niente la finale dovrebbe essere Real Barcellona e Stadi Strapieni Stadi Strapieni ha vinto nel campionato della Coppa Italia quindi una scuola che non c'entra niente chi è arrivata a seconda chi è arrivata in finale in Coppa Italia se volete fare il grano dategli una finta motivazione però ecco a proposito ho sentito Inzaghi poco fa ma lui dà già per scontato che saranno due partite quindi la Lazio ha vinto venerdì secondo lui la Lazio c'ha vinto Inter-Lazio per fare due partite se non si vincere la Lazio però credo che la Lazio ci tenga spero anche perché c'è lo titolo di là che non ha chiuso benissimo con Inzaghi volevo dare due dati fondamentali perché sulla grande prestazione dell'Inter e soprattutto per la classifica l'Inter ha 49 gol fatti e 10 subiti con 18 gol Lautaro 9 c'ha la Noglu e 8 Turam cioè sono numeri impressionanti se andiamo a vedere la Juve dietro la Juve c'ha 29 gol fatti e 12 subiti cioè 20 gol in meno dell'Inter eppure la Juve ha due punti e lì e secondo me meriterebbe anche essere davanti così sono tanti 20 gol in più quindi vuol dire che tu devi stracciare tutti in quel momento con 49 gol fatti infatti se perdete questo campionato secondo me non so in che in che zona del Naviglio andrete a nascondervi o a Butami ma è lunga è lunga quando si parla di numeri quando si parla di numeri di questi numeri che fanno impressione perché non tanto c'era Noglu che in questo momento a parte che tira tutti i rigori dell'Inter quindi è più facile fare più gol mentre Vlauvić magari su tre rigori ne ha sbagliato i due per dire succede no? però a proposito di numeri voi pensate cos'è stato il Barcellona del 2015 con Neymar con Neymar su Arez che è arrivato alla finale di Berlino contro Juventus con campionato Coppa del Re vinta e finale da giocare con 159 reti dei tre attaccanti erano tre fenomeni sì certo forse l'attacco più forte ma qua stiamo parlando di Lautaro Martinez che quest'anno può andare a superare i guaine immobile eh sì cioè se va avanti così però se pensiamo e non tirando tranne come ieri quando era già uscito non tirando i rigori io voglio dire anche che tu parli del più forte attacco ma lo scorso anno un Mappé Messi e Neymar ragazzi non hanno fatto quei gol lì e sono tre mostri perché sono tre mostri ti sto dicendo quando l'Inter entra in serata come ieri a parte che il Monza secondo me ha sbagliato approccio alla partita però l'Inter quando gioca così dimostra di essere quella con la rosa più forte giocabile sì qui tocchi un altro punto su cui io non sono d'accordissimo premesso che il numero Thomas ha citato i numeri io tra questi numeri trovo ancora più impressionante la riflessione sul fatto del più 39 di differenza reti in 20 partite vuol dire statisticamente in media una differenza reti a cui manca solo un gol per essere più 2 a partita che è un numero spaventoso ha vinto 5 scontri con 4 gol di differenza anche il derby infatti il numero totale ti porta a un più 2 di differenza reti che è un livello pauroso mai visto prima sul fatto che sia allora no hai ragione quando dici è la più forte che sia così più forte la rosa più completa ecco la rosa più completa non sono d'accordissimo nel senso che sono d'accordo al 100% al 1000% mi stai manando in confusione sei d'accordo o non sei d'accordo? se sul centrocampo a metà se d'accordo o non è d'accordo ma non completamente litiga con se stesso no sul centrocampo a centrocampo faccio il rapporto con la Juventus e dico quale Juventino giocherebbe titolare nel centrocampo del Inter forse Rabiot no Rabiot e basta non forse dall'altra parte quali interisti giocherebbero titolari forse anche frattesi forse forse benissimo secondo me e questo va benissimo guardiamo l'attacco l'attacco dell'Inter è due giocatori che stanno facendo un campionato meraviglioso e due ex calciatori inadeguati e pensionati infatti quando Lautaro si è fatto male l'Inter ha rallentato quindi come completezza di rosa l'Inter a mio parere ha la rosa più completa se si fa il giochino tipo fantacalcio di guardare l'undici titolare allora lì d'accordo nel momento in cui dovesse avere come gli è capitato Lautaro fuori per due partite e Turan che senza Lautaro rende meno della metà non ha la completezza in attacco in attacco in attacco non ha la completezza cioè la rosa della Juventus in attacco secondo me è più ampia più profonda di quella dell'Inter Thomas questa Juve che vi sta alle calcagna nonostante tutti quei numeri che abbiamo detto prima 39 di differenzareti il capo cannoniere però alla fine la Juve è lì l'anno scorso il Napoli non so quanti punti aveva di stacco dalla seconda aveva 12 a un certo punto del campionato ne ha avuti anche 13 14 non ha mai avuto una seconda attaccata questo cosa dimostra che la Juve è una buona squadra la Juve secondo me è un miglioramento è un netto miglioramento sia di fiducia perché sta acquistando fiducia questo è un dato di fatto incomincia a giocare meglio secondo il mio punto di vista perché anche si incomincia a intravedere anche un po' di gioco a crederci a crederci ma sappiamo benissimo che quando si vince è tutto è sempre tutto più facile sai cosa c'è la Juve tanta fame la Juventus anche l'Inter ma tanta fame come la Juve secondo me ce l'ha in poche perché l'Inter lo scudetto con Inzaghi non l'ha ancora vinto cioè alla fine l'Inter lo ha perso l'Inter è obbligata a vincere questo campionato è arrivata in finale di Champions però l'ha persa non mi dite che deve lottare per vincere è obbligata a vincere ma magari è lì al secondo anche quest'anno a Thomas che dice quello che stanno dicendo i suoi dirigenti all'inizio stagione certo loro hanno puntato di più sulla seconda stella che sulla Champions e la Coppa Italia l'ho dichiarato da sempre tutti e ci sono dei tifosi che dicono no la Juve perché non deve lottare la Juve in questo momento sta facendo un miracolo totale perché Fabio dice delle cose ma torniamo ad agosto a dirle il Dizky era ad agosto per tanti di voi ah certo Ken cos'era per tanti di voi ad agosto Chiesa era quello che ancora doveva ritornare ad essere Chiesa Vlaovic rispetto a Firenze non lo so sì Milik l'hanno scorso bene quest'anno Milik tre mesi senza far gollo ragazzi Ken è fuori da un mese alla luce dei fatti la Juve davanti ha più alternative dell'Inter che ha più alternative sì in questo momento sì che uno dica che la rosa della Juve è più completa perché davanti ha un giro attaccante più forbito la rosa dell'attacco la rosa dell'attacco perché solo i terzini dell'Inter sono di livello europeo i centrocampisti sono di livello europeo ha perso Brozovic ha perso Lukaku ha perso Dzeko ha perso Gosens ha perso Skriniar ok Onana Lukaku e Dzeko secondo me davanti sono quelli più pesanti perché quando non c'è l'Autaro se giocano loro due è un'altra cosa e Dzeko secondo me era uno dei giocatori più intelligenti del mondo che faccia giocare bene la squadra esatto l'Autaro quando c'è fa giocare bene tutti quelli che ha di fianco intanto è vero che Lukaku, Dzeko Turam stesso non segnano mai come prima quando c'erano l'Autaro di fianco lui fa giocare anche bene gli altri oltre a segnare lui e pareggio del Cagliari intanto il gol di Petagna che non aveva ancora segnato in questo campionato e segna un gran bel gol Petagna saltando Skorupski in velocità e poi trovando la porta con precisione al minuto 32 cambia la partita nuovamente a Cagliari 1-1 insomma punti pesanti ritorna tutto un po' più compatto lì davanti Gianni è contento Gianni è emiliano giusto? però è milanismo si è fatto condizionare da quello che gli ho detto prima si è fatto condizionare da quello che gli ho detto prima guarda che ha visto lì 35-36 ha detto siamo a 39 noi stasera siamo obbligati a vincere questa sera non so come vado a finire quindi voglio dire tu prima prima mi dicevi il gran gol di Petagna perché provano a tirarlo giù che parte su un aggancio lungo lo provano a tirar giù per la maglietta lui mani in piedi potrebbe esserci un check sulla posizione di partenza attenzione che ci può essere un funzione di partenza finisco aspetta non è buono è buono secondo me l'ha confermato si vedeva vai vai e questo è un argomento Juventus ragazzi arriva da un mercato non fatto se noi parliamo di Ken di Diz eccetera Allegri sta facendo questi numeri con Gatti con Niretti con Iling Junior con Cambiaso e con Pogba e Fagioli fuori dall'inizio stagione Pogba per tanti era già finito ok ma intanto era un ricambio che poteva fare mezz'ora partita di sicuro ed era una certezza per lui un ricambio di certezza di qualità che lui conosceva molto bene Fagioli stesso era un titolare ha dovuto spostare in varie parti del campo altri giocatori perché con l'arrivo di Magnanelli hanno cercato di giocare in modo differente dopo la sconfitta col Sassuolo ha lasciato quel modo che si è intravisto all'inizio stagione della Juve di giocare molto più offensiva per tornare a fare le cose che sanno fare molto meglio cioè coprire e poi ripartire ora si sta si stanno anche come dire sviluppando delle sicurezze all'interno del gruppo e della squadra che prima non c'erano però ragazzi vi ripeto voi mettete 7, 8, 10, 11 di questi giocatori nella rosa dell'Inter del Napoli del Milan e vediamo dove giocano perché se torniamo ad agosto o a settembre metà di questi non giocano neanche forse nella Lazio l'Udinese nella Fiorentina quindi Allegri ad oggi se l'anno scorso per vari motivi in alcune situazioni è stato attaccato se l'anno prima pure però ricordiamoci cosa ha passato questo allenatore in tutti i tre anni anche quest'anno è stato attaccato però i risultati gli danno a Bergamo io l'ho attaccato personalmente perché a Bergamo ha fatto una partita secondo me indegna in realtà poi parlando con lui capisco perché hanno avuto quell'atteggiamento e hanno cercato di fare quello che si poteva fare in quel momento senza i giocatori che aveva lui quel giorno l'anno dopo lo sappiamo tutti che è successo crolla la dirigenza si dimette tutto il CDA la Juventus viene penalizzata il mercato non si fa si compra UEA e basta che inizia a giocare bene da qualche settimana ad oggi quindi siamo una squadra che sta cercando di fare il massimo con quello che c'è a disposizione quindi mi stai dicendo che l'Inter paradossalmente avrebbe dovuto fare meglio no la Juventus sta facendo più di 48 punti e più di 50 punti o fai come Conte quando ne fa 102 che praticamente le vince tutte ma avevi una squadra lì che era diversa secondo me rispetto a quelle di cui parliamo adesso anche perché sono stati scudetti di fila oppure l'Inter più di così non può fare anche perché ci sta un calo di tensione tra tutte le cose in questo discorso ci metto ancora oggi senza andare a guardare altre cose che ho letto in settimana di Rocchi dove tra tutto quello che lui fa emergere alla fine viene fuori che l'Inter ha tre punti in più io non guardo l'Inter quattro punti in più io dico soltanto che se a Genova mi avessero dato il rigore di Bani probabilmente la Juve adesso ha pari merito con l'Inter sì ma io Franci quello che volevo dire prima no se andiamo a analizzare le ultime partite della Juve incomincia a giocare meglio perché più sciolta ma incomincia a segnare anche gli attaccanti se noi andiamo a vedere le ultime partite togli le ultime quattro quelle in precedenza la Juve vinceva di corto muso e si chiudeva in difesa aspettava e soprattutto segnavano centrocampisti per sette partite consecutive e difensori hanno segnato centrocampisti perché dico che la Juve sta giocando meglio ed è più sciolta perché innanzitutto il risultato della vittoria ti porta a essere più sciolto e secondo adesso hanno incominciato a segnare anche gli attaccanti e questo è fondamentale sì e io credo che adesso siamo di fronte a un momento decisivo perché l'Inter avendo vinto ieri in questo modo così netto ha lasciato la palla la Juve in questo momento e la pressione c'era la Juve adesso per la prima volta forse veramente nel campionato sì perché se tu non rispondi col sassuolo tu martedì hai una risposta a dare col sassuolo in casa a distanza di quattro giorni dalla partita dell'Inter e poi hai una partita da recuperare cioè giocherà in una partita che l'Inter non giocherà quindi potreste arrivare allo sconto diretto addirittura in vantaggio conto diretto 4 febbraio quindi non manca molto e aggiungiamoci in questa fase che la Juventus ci crede al di là adesso sembra quasi che siano noi in studio quando facciamo gli spottoi e le gufate tra le due società che rimpallano all'altro obblighi doveri di vittoria eccetera la Juventus ci crede lo dimostra la trattativa in corso per Henderson perché Henderson chiaramente per età e per palmares ti fermo Fabio una questione di costi la Juve ha dato in presto Uisen alla Roma perché ha preso un milione quindi se una squadra dà via un giocatore per un milione guarda il biscotto la trattativa su Henderson se dovesse concretizzarsi positivamente considerando l'età e il palmares del giocatore non è certo il giocatore che prendi per costruire poi per gli anni prossimi è il giocatore che prendi per fagioli è lì un certo lo prendi perché a questo punto ha la possibilità di superare l'Inter e di vincere il campionato ci credi perché se no in una situazione come quella che ricorda Francesco in cui stai attento al milione che per noi è tanto ma per una società di calcio un milione non è una cifra clamorosa nel momento in cui stai attento a un milione se tu non avessi la consapevolezza e la volontà di andare a prendere l'Inter e superarla non lo fai l'investimento è vero però ti corrego su una cosa l'Inter l'ha dichiarato come obiettivo la Juventus è al quarto posto come obiettivo che secondo me è fagiolo non vorrei che se la Juve avesse un calo da qua a giugno e dal secondo posto finisse al terzo passasse per un campionato un fallimento perché ragazzi dobbiamo sempre ritornare a pensare a quello che è stato anzi ti dico scusami l'anno scorso la Juve è arrivata terza deve fare almeno lo stesso dell'anno scorso per fare come l'anno scorso però adesso la bocca al primo posto te la sei fatta te la sei fatta certo però uno juventino secondo me è anche abituato a capire quando ci sono le possibilità per giocarsela veramente o no e vi dico che oggi a gennaio siamo al 14 è ancora veramente troppo presto perché il 4 febbraio sarà un crocevia importantissimo ma anche da lì potrebbe uscire un risultato a favore di uno o dell'altro o un pari che potrebbe anche non distanziarle troppo con la coppa di campioni in arrivo poi a febbraio e con tutto il resto che ci sarà perché poi metti che la Juve andrà avanti in Coppa Italia e l'Inter non dovesse andare avanti in Champions per dire sarà la Juve a trovarsi due partite in mezzo alle scatole con una rosa sottodimensionata fatta di under ragazzi la Juventus ha migliorato l'età media della squadra di non so quanti anni in una stagione sola non era mai successo certo però stavo dicendo scusa Fede vai vai Thomas qua si parlava che l'Inter non gioca con l'Atalanta perché va a fare la Supercoppa e giustamente la Juve è una parte in più ma l'Inter ricordatevi che va a Firenze con la Fiorentina la Juve gioca in casa con l'Empoli quindi anche lì non è che ci può essere anche una distanza ulteriore a questi occhio attenzione quindi non è solo la partita con l'Atalanta questo è evidente però poi è anche vero Gianni che da calendario Monza-Juve è più difficile scusami Monza-Inter è più difficile di Juve-Sassuolo da calendario però poi tu vai a Monza vinci 5 a 1 e quindi i discorsi poi Sassuolo ha battuto sia l'Inter che la Juve quindi non è contrario no però guardando il momento attuale il Sassuolo è poco attendibile la squadra strana con le grandi si esatta esatto socialmente intrasperta siccome tutti quanti anche a livello di scommessi di queste cose si dice che chiaramente l'Inter è stra-favorita io non credo io toglierei lo stra e lascerei solo forse favorita dal fatto che ha una rosa più completa al di là come dice l'amico di fianco che ha un attacco che sicuramente magari è più completo più ampio non più forte più ampio solamente Gianni ti fermo un secondo ti faccio ripartire Milik tra i mesi che non segnava no no c'è Ken è un mese che non gioca Chiesa sulle ultime 5 partite ne ha saltate 3 e l'ultimo gol su Rigor a Genova siamo un po' in una fase difficile in questo senso chiudo dicendo che comunque a mio avviso la Juventus secondo me il fatto di non avere le coppie che inciderà tantissimo già questa roba della distrazione della supercoppa che devono andare a fare sto viaggio a fare queste partite è una roba che comunque ti toglie la concentrazione finisce sta roba torna sul campionato e ricomincia la coppa quella che conta e lì qualcosa lo lasci qualcosa in qualche partita magari banale perché la tua fortuna forse è magari avere incontri importanti ma se hai incontri squadre di secondo livello magari e lì forse hai ancora rischi ancora di più e la Juventus in questo lo può approfittarne e credo che la Juventus starà lì fino alla fine del campionato e sarà davvero qualcosa che può sorprendere anche la stessa Inter che è come diciamo favorito siamo alle risposte 0-0 di mister Inzaghi infatti stavo concludo quello che stavo per dire cioè che ho visto Inzaghi solamente in una dichiarazione esporsi proprio un anno fa di questi tempi quando quando se la prese con i giornalisti che gli imputavano di insomma di non far giocare bene alla squadra lui disse dove vado io si vincono trofei e i bilanci vanno a posto è stato l'unico momento in cui è uscito un po' fuori dalle righe ma in questo caso io direi che tutti ma stava leggendo stava leggendo un fogliettino che gli hanno passato probabilmente sì però però devo dire che anche in quell'occasione un po' mi dispiacque anche a me sentirlo dire questa cosa e oggi gli vanno fatti i complimenti non solo per i risultati ma anche per la gestione della squadra vedere quello che succede sul campo è già per noi che siamo tifosi meraviglioso perché la squadra gioca molto bene ma vedere anche l'approccio che hanno quelli che subentrano e quelli che rimangono in panchina partecipando veramente in maniera pazzesca perché è la prima volta che si vede una comunione di intenti così nonostante ci siano calciatori come Sanchez come ad esempio purtroppo a centrocampo noi abbiamo Fratesi che sta giocando pochissimo e quindi nonostante questo che sono campioni che potrebbero giocare un po' ovunque c'è un clima pazzesco di festa di gioia di voglia di vincere e il clima che serve per rispondere alle critiche a cui ha risposto Inzaghi anche simpatizzante interista non salgo sul calore di Inzaghi secondo me qui qualsiasi altro allenatore farebbe la stessa cosa forse anche meglio perché l'Inter che ho visto ieri sera non ha punti deboli il centrocampo dell'Inter è il migliore in assoluto forse uno dei migliori in Europa sicuramente il migliore in Italia c'è la Noglu Varela Fratesi che entra Vichitarian davanti all'autaro che ogni parola butta dentro ha fatto quanti 15, 16, 17, 17 18 18 gol è un bravo gestore gestire uno spogliatoio se ci mette in su a volte va un po' in confusione non a caso questa settimana che l'Inter si è allenata e basta e non ha giocato partite rinforzionali perché è stato eliminato la Coppa Italia e l'Inter ha fatto la partita migliore ma questo testimonia ancora perché lui fa una cosa bene per volta se va bene in Champions va bene in Campionato ma non sono d'accordo non si può parlare così di un allenatore che ha portato l'Inter a vincere dei trofei 4-3 Coppa Italia ha perso uno scudetto clamoroso in modo clamoroso mi ricordo ma anche su quello io ho la mia visione quell'anno lì purtroppo Inzaghi è stato tradito da Radu no perché nonostante nonostante il periodo storico ma prima doveva vincere le partite prima dai Radu è stato ma non è vero ragazzi nonostante le malefatte di Inzaghi nonostante le malefatte di Inzaghi che vogliamo far sottolineare in questa trasmissione nonostante le malefatte nonostante le malefatte di Inzaghi l'Inter aveva uno scontro con il quale ed era la quinta ultima di campionato con la quale se avesse vinto sarebbe stato davanti di un punto e ricordo che le ultime 5 le ha vinte tutte 5 mila tutte 5 mila nonostante tutto quello che stiamo imputando ad Inzaghi aveva una partita fondamentale con la quale se avesse vinto avrebbe avuto il pallino del campionato in mano è vero che non aveva la squadra che ha adesso non ti capita mai che un portiere su una rimessa laterale sbaglia a stoppare il pallone ma ragazzi ma succede una volta su Migliore guarda caso a Radu guarda caso che poi è andato a Genova tanto per cambiare succede di Radu bravo succede molto di Radu bravo abbiamo appena iniziato siamo calmi ragazzi fatemi vedere 18 e 18 porta bene sperimento un desiderio l'avete fatto prima freddura di puntata la puntata è ancora lunga insomma se siete fino alle 20 tenetevi forte no c'era Franco Leonetti anche che voleva rispondere a Mario mi è era parso di carpire Franco sulla battuta sulla battuta di Alberto io alzo le mani perché ormai è un amico lo conosco so benissimo doveva parare no dico anche il buon Bonfa Francesco Bonfanti è arrivato dalla regia ha alzato le mani io ho capito che alzo le mani non alzo le mani ma evidentemente c'è la comunicazione voglio che alzasse le mani sulla faccia io pensavo io vabbè in segno di resa ecco ah scusami tutto più chiaro per quanto riguarda Mario faccio un passo indietro Inzaghi dice insomma dove vado si portano trofei e deve ancora vincere lo scudetto sui bilanci io ci andrei con estrema calma eh i bilanci a posto Mario perché sai benissimo che tipo di prestito l'Inter dovrà restituire però stai parlando di un'altra cosa Franco scusami no 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 Inzaghi non puoi imputare di aver di aver accumulato debiti per conto dell'Inter Inzaghi semmai semmai ha puntato soldi nelle cazze dell'Inter ripianando i debiti casomai Marotta io fotografavo la situazione dell'Inter di oggi che non mi sembra felicissima ma non c'entra niente con quello che stiamo dicendo Franco cioè non c'entra nulla ma se permetti se permetti concludo così vai 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 poi c'era anche Riccardo che voleva aggiungere nel senso che la fotografia dell'Inter oggi è trofei e insomma Inzaghi ha vinto una Coppa Italia Supercoppa adesso si giocherà Supercoppa la situazione dell'Inter a livello di bilanci non è non è felicissima vedremo cosa succederà Mario però imputare solo a Radu uno sconfi una sconfitta grave che poi ti fa perdere lo scudetto secondo me è limitativo l'Inter perde quello scudetto perché ovviamente il Milan in anella una serie di vittorie ma ci sono sicuramente a detrimento di Inzaghi alcune situazioni che poi lo stesso Inzaghi il derby perso migliorando per esempio per esempio cioè non può essere solamente la gaff clamorosa di Radu a Bologna secondo me lì qualcosa è stato sbagliato ne abbiamo parlato tante volte se il giocatore di salvavilancio che ha preso Inzaghi c'è anche Correa 35 milioni allora Correa è stato un ripiego lo sappiamo benissimo è stato un ripiego perché alla fine purtroppo a causa di 30 milioni 30 milioni l'ha pagato l'Inter certo sono stati fatti degli errori è ovvio ma io comunque ribadisco che imputo ad Inzaghi ad esempio l'errore grave nel nei cambi che ha fatto ad esempio nel derby togliendo Cialanoglu ha tolto veramente il perno però nonostante quello nonostante gli errori nonostante il fatto che l'Inter a un certo punto a gennaio persino Lautaro Martinez che oggi è il bomber di tutti i campionati europei ha passato due tre mesi senza far gol neanche con le mani perché mi ricordo che tutti lo stavamo criticando io no vabbè perché comunque vada sono sempre a favore dei calciatori tranne in un caso che è quello di Radu dove onestamente lì non c'è niente da fare perché quella partita nonostante gli errori fatti in precedenza l'Inter avrebbe avuto la possibilità di andare vincere la partita e finire il campionato come ha finito ripartiamo un paio di situazioni in essere molto interessanti ho bloccato Matteo Mosconi ho bloccato Riccardo Oeste e poi ancora il nostro collegamento Franco Donetti allora Matteo io riparto da te no io volevo chiusare un po' quello che ha detto Mario che secondo me è corretto però ne parlavo con Ricky durante la pubblicità cioè il derby che l'Inter perde quell'anno contro il Milan è un derby assurdo non c'è Radu ha un senso cioè fa 70 minuti perfetti e poi in due minuti per la partita cioè lì non è Radu perché se tu vincevi quel derby il campionato era finito assolutamente sì è così ma c'erano ancora i punti di vantaggio che ti consentivano di andare però ci può stare imputare in zagli un qualcosa e le 12 sconfitte dell'anno scorso sempre a cavallo ridosso delle pretteri Champions l'anno scorso è stato incredibile colpa di Radu però devo aggiungere qualcosa a onore del vero il campionato vinto dal Milan meritatamente è stato vinto con due punti di vantaggio all'ultima giornata ma in realtà il Milan aveva subito di quei torti per i quali avrebbe potuto vincere quattro giornate prima perché quell'anno lì bisogna dirlo c'è stato qualcosa di incomprensibile un po' come quello che sta succedendo in questa stagione però non vedo torti come? non vedo torti vedo favori io o sbaglio no vedo errori io parlo di Inter io purtroppo vedo errori che rispetto al passato riesco sempre ad accettare poco perché sai che per me lo sport significa combattere in maniera leale quando purtroppo certe decisioni ti portano ad avere dei favori o dei torti non si tratta più di sport per quanto mi riguarda perché anzi io proprio per tagliare la testa al toro sarei felicissimo di rigiocare la partita col Verona ad esempio cioè per quanto mi riguarda se ci fosse quella possibilità io la rigiocherei stavo al VAR Mario come? stavo al VAR ragazzi vado un attimo ad Alberto Gianbruno il ragionamento sulla Supercoppa tu approvi il fatto che ci siano due partite non partita secca o preferivi prima una partita secca? no io non approvo assolutamente questa nuova mozione tra l'altro una copiatura della Supercoppa spagnola il disastro delle istituzioni del calcio italiano parlo di di Lega FGC e Palese davanti agli occhi di di tutti si dice sempre che si gioca tanto qui per assegnare una Supercoppa addirittura si raddoppiano le partite senza contare un altro aspetto l'elemento ambientale perché si parte da un'Italia che insomma è tra gli 0 e 4 gradi a livello di di temperature e si andrà a giocare in Arabia dove secondo me ci saranno almeno 30 gradi questo per la salute dei giocatori non credo che sia il massimo poi magari questa formula esalterà lo vedremo però mettendo sul tappeto quelli che sono i pro e i contro a parere mio in questo momento sono molto di più i contro rispetto a questa nuova formula che non è nuova copiata dalla Spagna per non parlare permettimi Vittoria se mi produco questa situazione delle parole questo oggi di Sarri in conferenza stampa dopo la partita con Lecce perché tu partecipi a questa supercoppa che ti piaccia o meno ci sono degli sponsor lì hanno speso tanto per averla ci sono emittenti che hanno acquistato i diritti anche noi seguiremo le partite se le volete seguire con noi però come fai a dire è tutto tranne che uno sport andiamo nel mondo e lemosinare soldi in giro sono contento di essere vecchio se questo è il calcio moderno prendi i soldi e scappa sarà contenta la lega calcio sarà contenta di questo sport è un classico ormai degli allenatori di Lazio e Roma quest'anno le mesime dichiarazioni imbarazzanti di un allenatore come Sarri che a me fa particolarmente arrabbiare perché sta all'interno del sistema e poi lo critica esatto e allora che senso ha io credo che Sarri abbia perso l'ennesima occasione per partacere sono dichiarazioni gravissime criticabile quanto si voglia questa furuna della supercopa e farne giocare in altra parte del mondo comunque porta dei soldi e questi soldi servono anche la partecipazione come giusto che sia posso aggiungere un elemento che si sta parlando di una formula un po' particolare che neanche io apprezzo più di tanto ma la gestione dei cartellini è la cosa più assurda perché ad esempio non so se avete sentito ma il regolamento è stato cambiato cioè dal momento in cui Cialanoglu ieri è stato ammonito e dovrebbe saltare la finale di supercoppa in realtà si ritrova a scontare questa cosa sul campionato e quindi a vedere l'Inter senza Cialanoglu per la trasferta a Firenze contro la Fiorentina questo vale anche Coppa Italia campionato e ieri ti dirò che si è fatto un po' moni la posta no 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 perché poi c'è la Juve se no il Milan stasera non aveva contro Mancini l'altro giocatore è stato espulso da Roma invece Mancini riguarda la supercoppa non la Coppa Italia infatti io ti sto dicendo chi è squalificato in Coppa Italia non sconte in campionato la squalifica ma la sconte in Coppa Italia è la stessa cosa certo ma in questo caso secondo me aggiunge altri elementi perché qualora Barella venisse ad esempio che in diffida venisse ammonito durante le partite della della supercoppa poi sconterebbe invece in campionato e quindi è un po' strana questa cosa è un'anomalia è un'anomalia ma fossero questi i problemi ebbè mica tanto cioè no ma Mario voglio dirti questa è l'ennesima cosa che va a accumularsi a istituzioni come Lega e TGC che ormai sono assolutamente alla frutta ragazzi in settimana è passato un messaggio da parte insomma del designatore degli arbitri per la seconda volta da quando esiste il VAR cioè qualcuno ha sbagliato ma nessuno ha errato e le stesse parole erano state dette dal designatore addirittura dal presidente della federazione italiana gioco calcio gravina quando ci fu quel clamoroso errore intollerabile in Juve salernitana cioè qui sbagliano tutti ma nessuno è colpevole e andiamo avanti così voglio vedere come si ridurrà il nostro calcio italiano e comunque sarà una novità per Inzaghi si dice bravissimo nelle finali secche questa è una doppia finale diciamo è una novità anche per lui è un bene o un male no spieghiamo spieghiamo un bene una difficoltà in più però bisogna vedere come la gestirà come la profererà sono due partite toste la semifinale chiamiamola così è finale ti ripeto una cosa che nella scorsa puntata avevo sottolineato anche accanto al buon Beccalossi lui si era messo quasi un po' a ridere però secondo me è una questione interessante sono molto curioso di vedere la risposta anche psicologica dell'Inter nel post supercoppa ok perché sei abituata da inizio campionato a stare sempre davanti a guardare tutti dall'alto verso il basso soprattutto la Juve che comunque ti insegue avevano fatti grandi applausi alla squadra di Lely nessuno si immaginava di vedere lì dovrebbe ritrovarsi seconda dopo la supercoppa ti puoi ritrovare ecco bravo Riccardo per la prima volta seconda perché la Juventus non ha l'impegno della supercoppa ha l'impegno del campionato hai il calendario della tua a livello proprio temporale la partita con l'Atalanta Sassuolo e Lecce esatto la partita con l'Atalanta che è quella che non giocherai il 21 di gennaio non la recuperi il 25 gennaio la recuperi il 28 febbraio per un mese l'Inter certo poi la Juve deve vincere tutti non è semplice avrà sempre la casellina una partita la casellina famosa di Bologna mi ricorda quando cittavamo Bologna prima soprattutto deve venire a San Siro a giocare con l'Inter in casa dell'Inter esatto quindi contiamo bene come due anni fa due anni fa quando l'Inter era sotto doveva recuperare sentivo sempre dire ah vabbè ma c'è il Bologna c'è il Bologna che problema c'è e poi Bologna ha perso appunto dico facciamo un po' attenzione meno male che almeno non deve giocare con il Bologna vediamo non mi sono dimenticata di Franco Leonetti perché Franco tu dicevi anzi domandavi a Mario Riso ma non è che l'Inter può sentire anzi mi sono proprio segnata il verbo che avevi usato dov'è dov'è non è che l'Inter può essere innervosita dalla Juventus gli hai chiesto prima quindi ma no ma io credo che il concetto vittoria siamo molto chiama impaurita ancora peggio la paura oggi non è proprio il caso di parlare di paura Mario replicava diceva la Juve merita rispetto è certo che merita rispetto ma un discorso è meritare rispetto un conto è da casa Inter come ha fatto più volte Marotta dire la Juventus è favorita per lo Scudetto perché non gioca le coppe tra l'altro le statistiche beh ma non lo dice solo Marotta Franco lo dicono tutti che la Juve non è favorita però potrebbe essere avvantaggiata per il fatto che non gioca le coppe potrebbe essere avvantaggiata ma non può essere la favorita non c'è paragone tra le rose la favorita è l'Inter bisogna essere sinceri poi non capisco questo gioco dello scaricabarile dello scaricapressione ma infatti lo fa anche Allegri posso dire che deve cercare di vincerle tutte ma io non vedo nessuno scaricabarile anche Allegri non parla di Scudetto vedo consapevolezza da parte della società Inter di voler rapportare a casa questo campionato per finalmente arrivare alla seconda stella ma ti voglio ricordare che non più tardi di un mese fa Rabiot durante una post partita disse noi della Juve ci crediamo noi vogliamo andare a vincere lo Scudetto e quindi è giusto ma appunto quindi non vedo questo scaricabarile io non lo vedo no Mario il discorso sta alla base è diverso non si può dire che la Juventus sia la favorita per lo Scudetto che poi magari possa arrivare fino in fondo e tutti i tifosi juventini se lo so non lo si può dire per la Juventus è una questione di etichetta che a me non so l'etica particolarmente non lo si può dire per la Juve ma lo si può dire per l'Inter perché scusa? mi sembra che l'Inter sia una squadra costruita per vincere mi sembra che la Juve è stata costruita per perdere la prima parte di campionato sia assolutamente a favore dell'Inter poi certo bisogna arrivare in fondo e fare più punti di tutti ma l'Inter lo dicevi poc'anzi Riccardo ha il centrocampo più forte in Italia è un dato di fatto Lautaro ha segnato tantissimi gol che l'Inter sia la favorita per lo Scudetto e abbia l'obiettivo di arrivare alla seconda stella questo lo ha detto però nonostante un Inter così forte sono solo due punti di differenza dunque ma infatti l'anomalia mi sa che l'unico che fa lo scaricabarie sei tu qua perché non vuoi parlare di Scudetto sta veramente agitando le acque per nulla non vuole parlare di Scudetto no onestamente Franco ha dichiarato abbiamo una squadra vicina ma non la nomina l'Inter ha dichiarato a luglio il nostro obiettivo è vincere la seconda stella più di così allora la realtà è lì in studio sì a inizio agosto quando è partito il campionato c'è qualcuno che ha detto la Juventus è la favorita per lo Scudetto nessuno ma non è vero non è vero è stato detto a più riprese anche sbagliando allora trovatemi chi in studio ha detto che sai che cosa si diceva si diceva un sacco di cose che sono diventate scontatissime e anche fastidiose con il passare del tempo ad esempio che l'Inter senza Lukaku senza gran parte Dzeko l'attacco si era indebolita perché questo era quello che si diceva l'Inter ha perso sul mercato tantissimo perché i sostituti sono Turam chi è non gioca da tanto tempo chissà come andrà in più Dzeko era forte avete preso Arnautovic che non vale la pena cioè è stato detto voglio finire questo concetto sai perché è stata detta l'ennesima cosa trita e ritrita perché si diceva la Juve non avendo la Champions League non avendo le coppe può preparare la partita una volta alla settimana e anche con la rosa che ha può superiore chiaramente con semplicità questo è quello che si dice ora il dato di fatto è che passata mezza stagione il girone di andato è finito l'Inter è rimasta la squadra forte se non più forte di un anno fa perché i bilanci dicono questo la Juve a sorpresa di tutti è una squadra temibile è una squadra anzi senti cosa ti dico la migliore Inter rispetto alla peggiore Juve perché la Juve non ha ancora dato il 100% di quello che è il suo potenziale ha solo due punti di distacco davanti ecco perché in questo momento anche Inzaghi si ritrova costretto visti i numeri a dire che la Juve merita rispetto e infatti questo sta dicendo ma non può essere preso come codardia cioè è rispetto tutto qua la paura non sappiamo cosa sia io credo credo di parlare un italiano corrente la Juve merita rispetto la Juve è sicuramente una sorpresa rispetto alle previsioni di inizio agosto quando è partito il campionato ma non si può dire nessuno lo diceva che la Juventus fosse la favorita per lo Scudetto solo perché non gioca le coppe si che lo dicevano e lo dicevano in tantissimi si diceva si diceva di considerare io no di sicuro si diceva si diceva di considerarla si diceva di considerare la Juve no Franco si diceva di considerare la Juve anti in ottica Scudetto non solo in ottica europea cioè comunque era una squadra non favorita Matteo non favorita però da considerare io sto dicendo da considerare Franco e tu che hai notato questo rinnovamento di Inzaghi io il sera ero in conferenza stampa a Monza la domanda era questa Juve che vi sta addosso vi mette in pressione vi dà una carica per vincere sempre e lui ha detto noi facciamo il nostro campionato e noi facciamo i più punti possibili dunque non ho visto questo nervosismo e trova verità questa formazione no no il nervosismo io me lo ricordo mi dovevo sentire anche le domande le cose che non hanno senso aspetta Franco volevo capire da Riccardo volevo capire da Riccardo se trovasse verità questa affermazione anche alla luce di quello che dicevamo un po' anzi valla a dire anche alla luce del fatto che se la Juve vincesse tutte le partite e l'Inter altrettanto l'Inter vince lo scuola e no ho capito però col fatto che poi deve recuperare la partita il 28 febbraio se la Juve le vince tutte l'Inter non può vincerle tutte a quel punto secondo te la sente veramente la pressione Riccardo la sente la pressione se poi non sei più tu la capolista ma sei a seguire la Juventus è valida quella risposta che ci hai dato secondo te l'Inter è sempre stata davanti trovandosi sotto è vero con una partita in meno però potrebbe avere un contraccolpo insomma voglio dire però poi l'Inter però ha dimostrato di saper reagire quest'anno anche la partita è brutta non hanno giocato benissimo col Genoa anzi malissimo non l'ha fatto forse tutti non importa col Verona ha fatto fatica e ieri ha fatto una grandissima partita dunque è una squadra che comunque però hai l'occasione di incontrare la Juventus in casa a San Siro e poi qual è quella è la partita delle partite se la perdi allora vuol dire che la Juve merita di stare davanti all'Inter l'Inter potrebbe arrivare allo scontro con la Juve sotto di un punto sotto no? ecco lì è un grande stimolo battere la Juve per tornare davanti appunto non c'è bisogno di fare così tanto è il primo di febbraio ci sta questo ragionamento sulla condizione psicologica della squadra nel caso in cui si dovesse trovare sotto però Mario se la Juve batte l'Inter e la Juve poi diventa la favorita allora tutto quello che ha creato l'Inter a che cosa porta? cioè tutta la bravura di Inzaghi dov'è? l'Inter quest'anno scusate finisco a una Ferrari cioè a due squadre l'Inter perché toglie Di Marco mette Carlos Augusto togli Darmian metti Dufres però obiettivamente più di questo l'Inter cosa potrebbe fare? 49 gol fatti 8 gol subiti 50 punti dopo 20 partite ma io infatti ho sottolineato una cosa precisa è perso questo suolo è pareggiato col Bologna ma io sono d'accordo Ricci ma infatti ho sottolineato una cosa precisa ho detto Mario ha detto se l'Inter perde con la Juve allora la Juve diventa la favorita no non diventa la favorita allora la Juve meriterà di vincere questo campionato ho capito per me quello sconto lì dirà la verità ok ma non si può far passare il fatto che la Juve vinca contro l'Inter e il fatto che sia diventi la favorita e meriterebbe il campionato come una cosa normale perché l'Inter quest'anno è la stra favorita ragazzi non si può dire che l'Inter non è la favorita meno male che c'è qualcuno ma io guarda stai parlando Mario per me lo sai ma stai parlando con uno che ha già messo la doppia stella sulla macchina di che cosa parliamo io l'ho già fatto perché per me quest'anno il minimo sindacale vincere il campionato perfetto nel momento in cui tu mi dici una cosa del genere però rispetto la Juve perché devo dire che il cammino della Juve nonostante i problemi che ha avuto è un cammino rispettabile e quindi se prima non la vivevi con questa attenzione ma io sono super d'accordo il discorso il fatto che la Juve stia facendo un campionato rispettabilissimo è sotto gli occhi di tutti siamo tutti d'accordo però nel momento in cui davvero la Juve dovesse vincere a San Siro e mettere magari un solcro di 3-4 punti dall'Inter nel momento in cui si ritrovi davanti dopo la Supercoppa non è che si può far passare che vabbè allora brava la Juve complimenti ragazzi l'Inter quest'anno non può sbagliarlo lo scudetto però permettetemi no se adesso scusate se la Juve adesso va avanti si all'Inter va avanti di un punto poi la vado sull'Inter ci saranno ancora 4 mesi Franco perdonaci ripeti un po' no dicevo Mario accennava il fatto che la partita del partito sarà lo scontro diretto del 4 di febbraio a San Siro mi auguro che ovviamente la Juventus possa vincerlo anche se Mario ha già applicato la seconda stella sulla sua personale maglietta però poi ci saranno ancora 4 mesi i campionati guardate che i campionati degli ultimi anni a parte lo strapotere Juventus e lo strapotere Napoli ci ha raccontato di campionati che possono essere decisi se non al fotofinish quasi e quindi dallo scontro diretto di San Siro ci saranno ancora 4 mesi i campionati sarà una partita importante però c'è poi ancora tantissimo campionato quindi io ci andrei veramente con i piedi di piombo in questo momento e tra l'altro ragazzi invece per parlare di Juventus e parlare di numeri parlavamo di Lautaro di quanto ha segnato 18 gol in casa Juventus è un po' diverso perché abbiamo Vlaovic che in questo momento è il capocannoniere bianconero con 7 gol a seguire Chiesa 5 per il merito con Millie che Illitz 3 ma Ken Franco ma Ken 0 ma è di troppo far rapper adesso ma è di troppo far rapper parte Ken parte in questo momento fammi un po' capire il clima possiamo dire che sia in uscita è stato anche sfortunato perché gli è stato annullato quel gol in Juve Verona insomma con il VAR che ci mette molto molto del suo per annullare un gol che secondo me era regolare intanto diamo una notizia in ottica Sassuolo Chiesa è recuperato ed è un rientro molto importante e c'è grande ottimismo per ritrovare anche Rabiot che è un punto nodale della formazione Juve il tuo paragone è assolutamente impietoso citi dei numeri che dimostrano che l'attacco dell'Inter è andato molte più volte a segno rispetto all'attacco della Juve ecco credo che il difetto maggiore della Juventus in questa prima metà di stagione sia stato proprio quello di segnare poco perché poi i numeri difensivi sono molto buoni nella Juve hanno segnato tanti giocatori però non c'è uno stacco così ampio come quello dell'Inter gli attaccanti in questa seconda partita di stagione dovrebbero migliorare molto a livello di realizzazione e la vittoria di uno studetto comunque inseguire mettere pressione agli avversari passa anche attraverso un attacco che gira e che realizza molto cosa che alla Juventus in questa prima partita di stagione abbiamo visto poco abbiamo visto poco anche se il trend sembra essere invertito dalla Coppa voglio pensare al 6-1 con la Salernitana i due gol fatti sempre alla Salernitana del campionato e poi in Proginone e quindi hanno invertito la tattica del cortomuso questa Juve che segna c'è al contrario di quanto stessimo dicendo poc'anzi ci sono partite che ti consentono di fare una balanga di gol una barcata di gol altre meno però io credo che gli interpreti dell'attacco della Juventus abbiano molti più gol nelle loro corde c'è questa nuova scoperta di Lidiz che sta facendo veramente benissimo e quindi mi auguro per i tifosi juventini che la Juventus in questa seconda parte di stagione si svegli un pochino lì davanti anche Blau ha fatto dei gol decisivi forse ci si aspettava di più a livello di segnature e poi chiesa che insomma una volta non sta bene una volta è fuori se la Juve recupera tutti lì davanti ha potenzialità elevate questo sicuramente ha perso 4 a 2 Marcello l'Inter ha vinto 5 a 1 a Monza che cosa c'hai da ridire? c'ho da ridire che la direzione arbitrale cioè io allora faccio una premessa faccio una premessa l'Inter non è che è per caso in testa la classifica o è solo per gli aiuti diciamolo l'Inter è una squadra è alla rosa più forte del campionato e si vede in campo lo si nota il problema è un altro è che se tu a questa ma è che lei ha perso con il Sassuolo? ma chi se ne frega stiamo su questo tema stiamo parlando di robe serie adesso e beh parlando di cose serie ha perso con il Sassuolo l'Inter ha perso anche col Bologna in casa mi fai parlare scriviti due cose in due punti se a questa squadra gli dai ogni volta la beneficia di qualcosa non gli vai mai contro gli dai sempre cose a favore questa squadra diventa imbattibile invinci no noi ti abbiamo tolto l'audio non puoi parlare perché se no se no non mi fa parlare perché scusami ieri ieri cominciamo dal quarto minuto di gioco primo giallo a Colpani per un fallo francamente lo richiami si vede che non lo fa poi ma ti direi che c'è l'ha il fantacalcio poi stai zitto Borrelli prima finisco poi parlare cambiata la partita poi il rigore il rigore il rigore io mi sono andato a rivedere almeno dieci volte il replay da tutte le angolazioni la deviazione di mano non l'ho vista cioè addirittura ho visto prima il colpo di mano di Pulisic che stiamo ancora cercando di capire se aveva preso di mano a Genova oppure no non l'hanno ancora capito io altrettanto non ho capito se ieri l'ha presa Gagliardino non l'ha presa tant'è vero che Lautaro che uno che se vedesse avesse visto il fallo di mano era il primo a segnalarlo all'ambito chiede l'angolo chiede l'angolo poi c'è il gol annullato a Pessina che ci vuole veramente e vabbè lì entriamo in un campo minato lì sul discorso di quel gioco dovremmo avere un capito non lo so il telescopio posso anche darti ragione poi c'è il 3-0 che nasce da un fallo ma loro quando fanno fallo nell'azione che porta al gol non gli viene mai fischiato poi c'è Frattesi che si va a procurare il rigore in maniera scaltra perché si mette davanti e si fa caricare oh Ildiz Ildiz ma quello è rigore Marcello Ildiz a Salerno gli succede quasi la stessa cosa e il rigore non glielo danno lui invece si butta immediatamente ma infatti abbiamo detto che quello dell'Alder lui sarebbe stato rigore a Salerno un collo all'Inter ieri sicuramente molto probabilmente avrebbe vinto perché il Monza ieri detta dallo stesso Palladino non hanno giocato hanno fatto una parida pessima e quindi meritavano di perdere ma un conto è perdere 1-0 2-1 un conto è perdere 5-1 e dire l'Inter è stratosferica non è stratosferica è molto forte ma fa 5-1 perché se tu già al decimo minuto gli spalanchi la porta e gli dai un rigore che nemmeno l'Inter chiedeva la partita si facilita a una squadra così forte la facciamo replicare Michele che lo vedo già pronto a ribattere allora smascherò subito Marcello facile facile perché lui parla di questo fuorigioco di Pessina Inter-Verona l'Inter segna il 2-0 ed è annullato per un fuorigioco di Acerbi di un quarto di spalla era fuorigioco per un quarto di spalla quello di Pessina era un quarto di spalla più un quarto di fianco quindi perché lì non si scandalizza il 2-0 in Inter-Verona e invece si scandalizza per il 2-1 di Monza Inter devi essere coerente Marcello sempre o mai tu e gli interisti ogni volta che vengo qua io porto degli episodi di giornata quelli che sono di giornata e loro tirano fuori eh però due domeniche fa tre mesi fa un mese fa nel 98 nel 61 e vabbè allora cioè ma parlate di quello che è avvenuto ieri spiegami ieri se hai visto c'era un fuorigioco quello di Pessina è fuorigioco quello di frattesi come quello di Darmian su Dani Mota sono spinte o sono tocci o sono rigori cioè non c'è proprio la direzione di ieri non c'è proprio niente da dire non è frattesi che se lo va a cercare si fa si fa venire addosso l'altro ma quale frattesi ma un tampone ma l'arbitro lo deve capire se lo capiamo io Mosconi e e e e Marianna e però è fallo ce la vediamo è possibile che l'arbitro che lì non lo vede ma come fai ma comunque è fallo ma Marcello allora perché allora perché non mi hai dato il rigore di Hildiz infatti è un errore non averlo dato ah è però alla Juve alla Juve il rigore non si dà no all'Inter invece immediatamente se lo vanno a cercare non si dà nessun rigore contro zero rigori contro finora alla Juve zero rigori contro alla Juve zero e voi nove rigori a favore e voi nove a favore eh ho capito ma l'Inter ha fatto 49 gol in aria entra spesso ma poi a me non interessa cioè poi devo dirti la verità che a me non interessa se c'è il rigore c'è bisogna darlo appunto appunto però io sto contestando noi stiamo parlando della partita di ieri sera io ti ho fatto un elenco ieri io lo trovate dubbio e guarda che Mosconi Mosconi l'ha trovato dubbio pure lui solo che adesso secondo me il fallo di mano c'è glielo ho detto Marcello ma dove l'hai visto l'hai visto netto ma il braccio largo ma non c'entra il braccio largo ma non c'entra il braccio largo io posso anche stare così ma se la prendo qua perché Lautaro chiede il calcio d'angolo perché probabilmente vede la deviazione di petto non vede quella di mano Lautaro se vede la mano ma la prima cosa che chiede è una cosa proprio facile facile quella del rigore di Cagliaccio ma davvero tant'è vero che l'arbitro non manco l'ha visto guarda lì non la vede Lautaro che lì non la vede la vede solo quello al VAR quello al VAR va a vedere una roba ma che poi me la fanno rivedere dieci volte e io mi sforzo mi sforzo di capire dove è la deviazione allora secondo me il fallo di mano c'è ci sta il rigore io ieri con Marcello dicevo la cosa che dà fastidio a me è che ad esempio Fazio Salerno non me lo viste secondo te non l'ho vista secondo te io vedo tutto il Fazio a Salerno che la prende di mano non mi danno quel rigore è più o meno la stessa cosa io è questo che contesto però ieri il rigore secondo me ci sta gli altri due di Dani Mota e di Frattesi per me potrebbero non essere rigori entrambi perché sia Dani Mota cerca il contatto che Frattesi però ci sta vengono dati va bene e il fuorigioco ragazzi è dura da digerire è da fastidio anche a me Massimo tante volte noi stiamo portando avanti la battaglia sul fuorigioco sul discorso della luce non della luce perché effettivamente il fotogramma che viene più prima quello che viene più dopo insomma è una battaglia che finché non viene risolta dobbiamo prendere per quello che è cioè accettare anche immagini che fanno un po' sorridere come quella di ieri a Monza a me non ha fatto sorridere a me non ha fatto sorridere per niente mi ha fatto solo incazzare non mi ha fatto sorridere quando vedi annullare o convalidare un gol per mezzo centimetro secondo me viene meno il motivo per cui esiste la regola del fuorigioco però tant'è Massimo siamo su 2-1 ma la regola le regole le hanno fatte l'hanno fatta questa regola l'ha fatta chi mi dispiace dirlo in campo non ha mai messo il culo stanno col culo sulla poltrona io dico per esempio per esempio io non vado a contestare qualcosa che è successo adesso con il Monza perché onestamente l'Inter secondo me avrebbe comunque vinto primo perché è molto più forte secondo perché il Monza poi ci ha messo anche del suo perché è stato inguardabile ma detto questo secondo me le tre partite che danno un peso o diciamo così un po' di pepe a quello che è la decisione di un arbitro e il non intervento o l'intervento sbagliato del VAR e io continuo a sostenere e guarda sto facendo una battaglia così ma proprio tanto per tanto io non è che ci voglio andare perché non mi voglio levare i miei mesi che passo qui a Miami però secondo me in una squadra di VAR ci dovrebbe essere anche un ex calciatore perché l'ex calciatore e col Napoli e col Genoa e col Verona sarebbero intervenuti sarebbero intervenuti e avrebbero detto il fallo di Lautaro sullo Botka c'è il fallo di Acerbi su Osimen c'è e già lì cambia un qualcosa il fallo di Bissek sul cross e la spinta da dietro secondo me c'è e la gomitata di bastoni è da ravvisare io non so se un ex giocatore avrebbe fatto passare queste cose io dico di no ma questo è un mio pensiero però Massimo tu fai l'elenco degli episodi diciamo che hanno favorito l'Inter però per raccontarla tutta bisogna dire tutti gli episodi se si inizia a fare un elenco bisogna elencarli tutti perché non mi può dire che se c'era un giocatore il pugno di gatti il pugno di gatti con Verona non lo dava l'hai visto il pugno di gatti con Verona ma io sto parlando stiamo parlando dell'Inter ma che me ne frega me della Juve ma che me ne frega me della Juve ma come la battaglia tra Inter e Juve che me ne frega me della Juve come che me ne frega me ma scusa non ho capito io ho detto della Juve io ho detto il mio migliore uno dei miei migliori amici fa il direttore sportivo al Verona e l'hanno chiamato in procura federale ma cosa stai dicendo cosa stai dicendo ma che me ne frega me della Juve ma vai a chiedere ai tifosi del Napoli del Genoa e del Verona non della Juve che me ne frega della Juve c'è il qui pro quo perché aspetta 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 no nel senso che siccome stavamo parlando del discorso dell'Inter Massimo elencato ma io non io non entro in merito alla Juve no 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 ho capito io sto entrando in merito a quello che sta dicendo Marcello secondo me anche esagerando perché ieri secondo me l'Inter avrebbe meritato comunque di vincere le cose che le cose che secondo me non sono andate bene e che secondo me avrebbero bisogno di un qualcuno che ha fatto il giocatore all'interno della squadra VAR e che sarebbero intervenuti come visto che pari della Juve come sarebbero intervenuti sul fallo che c'è stato a favore del Bologna che non è stato ravvisato alla seconda di campionato certo non è che ne elenco siccome stiamo parlando dell'Inter domani parliamo della Juve ti dico della Juve scusa ma va bene Massimo se stiamo parlando dell'Inter ma cosa mi cerchi della di che parlare dell'Inter ragazzi ragazzi mi devo fermare ti lasciamo replicare Michele sul discorso Juventus soprattutto digliene 4 a Marcello Chirico così poi ti puoi staccare e ricominciare le tue dirette social no ma infatti vi saluto e vi abbraccio io volevo solo dire a Marcello per coerenza ripeto perché se no poi non risulti incredibile se tu allora tu ti lamenti della luce giusto? se ti lamenti del fuorigioco perché come diceva adesso Massimo con quelli che fanno le regole non considerano che nello spirito della regola se non c'è la luce è ingiusto annullare questi gol però vi dovete scandalizzare anche quando li annullano all'Inter questi gol perché in Inter non ho detto questo non avete detta questa cosa del 2-0 non ho detto questo ma non ho detto questo non puoi dire quello che io non ho detto scusami abbi pazienza non la faccio passare io ho semplicemente detto che la regola è sbagliata punto non sto guardando a chi l'hanno annullato ma io ho detto semplicemente questo non è che sto guardando solo i gol che annullano le squadre che giocano contro l'Inter ho detto semplicemente anche Michele ha detto la stessa cosa ha detto che la regola è sbagliata lui sta dicendo la stessa cosa che stai dicendo tu però credo che volesse dire per arrivare a un altro concetto Michele no? sì no per arrivare al fatto che voglio dire se si passa all'elenco degli errori con l'Inter secondo me passa il messaggio che l'Inter è prima in classifica per gli errori arbitrali o si affronta il problema arbitrale parlando di come gli arbitri e il VAR possono sbagliare come ha fatto Rocchi ieri oppure se iniziamo a fare l'elenco degli episodi tu Marcello mi dici un episodio e io ti posso replicare con un altro e andiamo avanti confrontando il numero degli episodi ho fatto una premessa io ho fatto una premessa non è stata capita vabbè comunque devi andare ciao mi dici che 5-1 col Monza mi dici che 5-1 ho fatto una premessa ho detto chiaramente lo dico anche a Massimo perché Massimo prima mi ha fatto l'osservazione dicendo no però bisogna dire che l'Inter ieri avrebbe vinto sì avrebbe vinto ma io stavo spiegando un'altra cosa io stavo spiegando un'altra cosa secondo me è il modo in cui gli arbitri arbitrono dirigono le partite dell'Inter che è differente da quello con cui arbitano e dirigono le partite degli altri punto poi l'Inter è prima in classifica perché è forte l'Inter è una squadra che può vincere sì è la squadra più forte del campionato ha degli ottimi giocatori e gioca anche bene e gioca anche bene quindi non è che l'Inter è per caso in testa alla classifica è in testa alla classifica perché è la più forte però se a questa squadra ma per questo ti sto in direzione di gara siccome tu dici che arbitano l'Inter diversamente quando ci sono gli episodi che favoriscono anche la Juve visto che è un testa a testa è Inter e Juve anche quelli li dovresti sottolineare però non te ne dimentichi Genoa Juve l'altra sera ricordavi il rigore di Bani ma non ricordavi quello di Cambiaso era la stessa partita e c'era un episodio per parte in Genoa Juve come in Juve Verona il pugno di Gatti non lo citi mai te ne dimentichi guarda caso il problema di voi interisti tutti e non solo tuo anche di quelli che vanno sui social e che tu frequenti tu voi avete sempre il brutto abitudine che ogni volta vengono fuori degli episodi evidenti tipo il Mani di Bani e voi andate a cercare sempre un episodietto del cavolo per andare a dire ma c'era anche quello per non dire mai per non dire mai che effettivamente quest'anno vi stanno aiutando vi dà fastidio sentirvi dire che a voi vi aiutano vi dà fastidio e invece è così vi stanno aiutando anche se siete fortissimi ed è una cosa che continua a andare avanti basta al processo l'abbiamo analizzata insieme Genoa Juventus se te neanche tu presenti me lo ricordo quella sera eri presente e Genoa Juve tutti infatti l'hai notato solo te e gli interisti tu e gli interisti dei social andate a trovare tutte queste scemate liberiamo liberiamo Michele ringrazio che è stato carino a intervenire con te salutano bene Marcello ti voglio bene ciao buon anno ciao Michele grazie Michele è stato un piacere grazie scusaci per l'incursione la manita la manita la manita mi sembra giusto Marcello adesso l'importante per la Juventus è batteri solo una Juventus che diciamolo mi sembra che stia trovando un come dire un filone virtuoso in questo periodo no? devo dire e su questo bisogna fare merit dare io che sono sempre stato uno che ad Allegri ha sempre detto quando gli piaceva come faceva come giocava c'era giocare la squadra io l'ho riempito di critiche però adesso bisogna dargli merito che comunque lui con quella squadra lì che comunque non è la squadra con la rosa più forte del campionato con quella squadra lì sta facendo sicuramente secondo me un mezzo miracolo farebbe un miracolo completo se riuscisse addirittura a vincere già a tenerli sempre sul pezzo a rispondere ogni volta all'Inter perché poi ripeto e lo risottolino per gli interisti che sono in linea l'Inter è forte non sto dicendo che l'Inter è lì soltanto per gli aiuti no 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 l'Inter è forte è in testa della classifica e mi stupisce come stupiva prima anche a Borrelli che nonostante l'Inter sia così forte sia solo a due punti dalla Juve ma questo è un merito della Juve questo è un merito di stare aggrappato all'Inter a cinque punti adesso so che lui l'ha già sì sì infatti lui mi stava dicendo devi rispondere col Sassuolo infatti sono chiamati a vincere anche col Sassuolo ma sono certo ma sono certo che faranno la prestazione anche perché questo cambio di rotta è ricerto anche con la salernitana c'è stata proprio dalla sconfitta con il Sassuolo perché da lì che comunque c'è stata questa evoluzione però rispetto alla Juve dei corti musi questa no va bene però aspetta i lunghi musi li abbiamo visti infatti in Coppa Italia vero è sì però tu il lungomuso l'anno scorso neanche in Coppa Italia no non lo vedevi no l'avevi fatto la prima giornata con il Sassuolo tra zero avevi vinto questo anno comunque poi io vedo un miglioramento nella squadra c'è un miglioramento evidente nel senso che prima giocavi in una certa maniera ti difendevi e basta difendevi e ripartivi segnano gli attaccanti adesso beh hanno iniziato a segnare gli attaccanti soprattutto si creano occasioni da gol una squadra come la Juve deve creare occasioni da gol e adesso ne crea di più cosa che prima non avveniva quindi il miglioramento c'è Massimo è una Juve diversa rispetto a quella delle scorse settimane? Ma è una Juve forse che crede un po' di più a quello che sta facendo che secondo me a centrocampo manca completamente assente la qualità perché se andiamo a vedere i singoli non c'è un singolo con la qualità che possono avere per esempio i centrocampisti dell'Inter che nei singoli hanno comunque dei giocatori di qualità vedi Cialanoglu che credo che abbia fatto tra virgolette un po' svoltare diciamo così la permanenza di Inzaghi all'Inter nel senso l'Inter di Inzaghi ha svoltato un po' con l'avvento di Cialanoglu messo lì dove sta adesso ma lì alla Juve non c'è un giocatore di quel genere io credo che tutti forse si dimenticano ma qualcuno dice che Pogba era finito io non lo so certo che quello che ha fatto vedere dava più la sensazione che poteva essere finito però quando stava per rientrare lo avevamo visto credo a Empoli a Empoli poteva a mio avviso poteva a mio avviso dare una mano anche al 50% anche non essendo al 100% e è quel tipo di giocatore che alla Juve manca perché la Juve non ha un giocatore di quel calibro di quel genere di quella portata di quella esperienza e di quella qualità quando manca il è inutile che dicono sì però davanti c'è questo davanti sì ma davanti devi creare tant'è vero che guarda caso Ildiz che è un ragazzino del 2005 che ha un po' di qualità che esprime qualità in quella zona di campo può sicuramente fare qualcosa di più anche se non è un centrocampista ma può dare qualche cosa di più a questa Juve che paradossalmente è una squadra che sta lì aggrappata all'Inter al secondo posto con una quantità innumerevoli di gol in meno segnati rispetto all'Inter stessa sì sono 20 no Tiziano gol in meno della Juve rispetto all'Inter fatti l'Inter ha segnato 20 gol 49 contro 29 insomma non sono numeri da poco questi onestamente però vedi la Juventus fra gli altri pregi ha 14 giocatori diversi che sono andati in gol quindi supplisce diciamo questa mancanza di quantità di reti eccetera con giocatori che vanno difensori che vanno a rete centrocampista che vanno a rete attaccanti e poi secondo me c'è un processo di crescita in atto delle punte anche certo per cui secondo me la Juventus è un'alternativa all'Inter si sta tornando anche come diceva Tiziano anche Vlaovic perché comunque nell'ultime tre partite due gol e un assist è un elemento sono numeri importanti un modo di stare in campo di Vlaovic diverso si diverso certo sia di testa che dal piano tattico e poi trova anche delle seconde linee perché a Salerno Kostic fa male ti entra healing poi hai scoperto Ildiz Tanta roba Tanta roba Sì però anche gli stessi scusa anche gli stessi Nicolussi Caviglia healing junior dai parliamoci chiaro perché se no dobbiamo dire che Allegri e Pirna l'ho detto anch'io che probabilmente era ritornato e non era ritornato col piede giusto anche per delle decisioni di mercato avallate che hanno lasciato sicuramente un grandissimo punto di domanda dallo stesso Paredes e Di Maria però poi quando riesci a inserire giovani io non vorrei dimenticare nemmeno Gatti che fino a tre anni fa o quattro anni fa giocava la propria in Lega Pro prima prima il Verbagli in eccellenza no appunto quindi Gatti healing junior Nicolussi Caviglia Rugani che era spernacchiato è tornato a essere un giocatore che forse tanti si sono dimenticati ma ha vinto cinque scudetti questo con le Juve precedenti insomma è riuscito a fare con quello che aveva a disposizione adesso sta facendo giocare Nonge che mi sembra un discreto un discreto giocatore sta facendo comunque con quello che ha a disposizione secondo me sta facendo il miracolo io la giudico come una 500 che va al massimo magari una cilindrata un filino superiore però anche quando si dice di Chiesa Vlaovic ma Chiesa ragazzi io leggevo oggi ha fatto metà delle partite che c'erano a disposizione per la Juventus metà ha giocato la metà delle partite quindi Chiesa l'hai avuto e non l'hai avuto anche l'hai avuto sempre ma infatti Bram io sono d'accordo nel senso le seconde linee sono diventate quelle che sono grazie ad Allegri io non l'avevo sottolineato però comunque sono giovani importanti mi dicono anche dall'interno che chi ha fatto una grandissima differenza in questo lavoro perché mi dicono che rispetto a prima questo è uno che viene ascoltato tantissimo anche dai tra virgolette big che ci sono nello spogliatoio come Danilo come lo stesso Chiesa è Giuntoli mi dicono che Giuntoli è un valore aggiunto anche nello spogliatoio questo è per sottolineare quanto a volte i direttori sportivi i dirigenti sono importanti anche nello spogliatoio non solo in sede di mercato non solo in sede di progettualità ma anche in sede proprio di spogliatoio a contatto con i calciatori credo Marcello che anche questo contribuisca un pochino a far salire il livello dell'ambiente è vero ma è importantissimo l'arrivo di Giunti è stato determinante perché lui dà un contributo anche a livello tecnico con le sue idee come faceva già Napoli perché lui parlava con Spalletti e adesso parla con Allegri ma soprattutto come diceva prima Massimo lui è un elemento carismatico all'interno dello spogliatoio perché viene seguito vuol dire che sa parlare con i giocatori questo è importante ricordiamoci che l'anno scorso il povero Allegri era da solo gli hanno affidato tutto il reparto sportivo a lui e si è trovato con il dover dirigere e doversi occupare di tutto invece adesso c'è una distribuzione di lavori va bene ragazzi prendiamoci due minuti diamo la regia rientro guardiamoci